Domenico Lucano rimane nel regime di divieto di dimora a Riace. La Cassazione ha annullato solo in parte l'ordinanza impugnata del Tribunale degli Esami di Reggio Calabria, sarà un altro collegio di giudici dello stesso Tribunale, a pronunciarsi di nuovo sulle esigenze cautelari per il sindaco sospesso di Riace. Ieri è stato reso noto il pronunciamento dei giudici Armellini. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza dei giudici di Reggio Calabria nella parte relativa al reato di turbata libertà degli incanti per avere l'indagato con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in qualità di sindaco nonché di responsabile dell'area amministrativa del Comune di Riace, mediante il fraudolento affidamento diretto a due cooperative sociali, Eco Riace e L'Aquilone, prive di requisito di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, necessario per procedere in deroga alla disciplina dell'evidenza pubblica alla stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi impedito l'effettuazione delle necessarie procedure di gara, bando di gara d'appalto o cottimo fiduciario per l'assegnazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti del Comune di Riace. Fatti successi dal mese di ottobre 2012 a quello di dicembre 2015, cioè dalla data della stipula della prima convenzione a quella della deliberazione di proroga dell'affidamento dello stesso servizio. Il nuovo collegio giudicante di Reggio Calabria dovrà esprimersi su tale punto, anurrato il resto del ricorso, quello relativo cioè alla contestazione sia a Lucano che alla donna etiope, considerata la compagna di Domenico Lucano di avere compiuto atti idoni a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano di un cittadino etiope non riuscendovi per cause indipendenti dalla loro volontà. In particolare Lucano, mediante un falso certificato, mediante viaggi in Etiopia, al fine di procurare la documentazione necessaria unitamente alla sua compagna, promessa sposa nel falso matrimonio di colui che in realtà era suo fratello, si attivavano per procurare l'ingresso illegale non riuscendovi a causa dell'arresto in Etiopia del soggetto straniero trovato in possesso di documentazione falsa procurata anche mediante l'aiuto degli indagati. L'operazione nella quale il sindaco di Riace, in seguito sospeso dalla carica dal prefetto di Reggio Calabria e risalente ai primi di ottobre, insieme a Lucano, sono indagati a vario titolo altri 30 soggetti, per lo più gestori, dei progetti di accoglienza nel comune dell'alta all'Ocride, fino a quel punto considerato anche fuori dalle mura nazionali, modello di accoglienza. Il sostituto procuratore generale della Cassazione Ciro Angelillis, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto il rigetto del ricorso proposto da Domenico Lucano. Ora, dopo il dispositivo della Cassazione, bisognerà attendere le motivazioni per capire nel dettaglio i termini della decisione dei giudici supremi di questo avviso e lo stesso Lucano, che prima di rendere dichiarazioni in merito al pronunciamento dei giudici romani, ha detto che si tratta di questioni delicate, ma non si è trattenuto nel dire che un ulteriore passo in avanti e ha concluso, sono fiducioso, piano piano si fa luce.